Ok, ciao a tutti! Questo è un video di strategia per consulenti doTERRA. Dunque, se siete arrivati a questo video, spero che abbiate visto tutti gli altri video precedenti nella playlist del business che ho fatto apposta per voi. È molto importante che abbiate visto il video che cosa fare appena fatti i consulenti, dove spiego le basi per essere consulenti. Queste sono le strategie che ho imparato durante i miei mesi di lavoro con doTERRA. Avrei pagato qualcuno per avermele dette subito, perché è molto facile lavorare con doTERRA, però se si ha una strategia efficace, come quella che appunto vi presenterò adesso, il tempo di lavoro viene ottimizzato, i nostri sforzi vengono ampiamente ripagati e ci costruiamo delle solide basi sia per il nostro business che per il business delle persone che decidono di lavorare con noi nella nostra squadra, creando così appunto qualcosa che durerà nel tempo e che sarà un modello anche da far duplicare agli altri. Ed è questa la cosa più bella, si lavora per un tot di tempo, si costruisce e una volta che le fondamenta della nostra casa sono costruite, il resto viene da sé e appunto creiamo quelle che sono le basi per la libertà finanziaria e per fare soltanto quello che amiamo. Dunque, cominciamo da zero. Quindi il consulente che non ha ancora iscritto nessuno, che cosa deve fare per cominciare appunto la sua scalata al successo. Allora, questi siete voi, vi consiglio di prendere un foglio, una penna, io ho sempre una bella agenda super piena di appunti che prendo da altri video, da altri corsi di business, doTERRA, eccetera, e quindi tutti noi dovremmo averne una. Questo è il cerchio che rappresenta noi, noi consulenti. All'inizio partiamo che ovviamente non abbiamo nessuno. Abbiamo deciso di essere consulenti, quindi noi non ci vedremo così, però tutti i consulenti che vedremo poi nella nostra struttura avranno tutti il colore viola, mentre i clienti normali avranno il colore verde. Questo è giusto per differenziare i vari tipi di persone che possiamo iscrivervi. Dunque, scusate, rieccomi. Quindi abbiamo detto che dovete guardare il video sulle basi, in cui spiego che la prima cosa da fare quando si diventa consulenti è impostare un LRP di minimo 100 PV. Ovviamente è modificabile in ogni momento, lo sapete. Vi consiglio sempre in realtà di impostarlo di almeno 125 per poter avere poi la promozione del mese, se fate ovviamente l'ordine i primi 15 del mese. Meglio ancora, e questa è una strategia di cui parlerò approfonditamente anche più avanti, sarebbe impostarlo di minimo 150 PV, perché se insegniamo ai nostri consulenti a fare lo stesso, arrivano dei bonus notevoli, molto interessanti e importanti. Quindi scriviamo 150 PV come ordine impostato LRP mensile. Se ci prendiamo questo impegno di impostare questa LRP ogni mese di 150 PV, siamo anche più motivati a lavorare bene, a insegnare bene agli altri e a avanzare anche velocemente se è questo il nostro desiderio. Dunque, la strategia più veloce per avanzare non è tanto quella dell'iscrivere i clienti. Dunque, in realtà i prodotti do terra, gli oli do terra, veramente li vogliono tutti, ve lo garantisco. Anche se all'inizio magari qualcuno può pensare che sono costosi, eccetera, in realtà non lo sono per niente rispetto alla qualità che offrono e soprattutto al risparmio che si ha, sia con l'adesione al programma fedeltà. Ogni mese ci regalano un olio, si accumulano sempre punti, le spese di spedizione vengono rimborsate, quindi quando insegniamo questo ai nostri clienti, loro stessi capiscono che è in realtà molto conveniente. Poi si possono sostituire moltissimi prodotti di uso comune con i prodotti do terra e in più ci danno punti, promozioni, ci sono sempre un sacco di offerte. Quindi in realtà non è assolutamente vero che sono prodotti costosi. E mano a mano che noi li usiamo, che li condividiamo con le persone, loro lo capiscono davvero da sé e quindi avere dei clienti non sarà assolutamente difficile. La parte un po' più difficile ma è quella che davvero consiglio per iniziare è quella di trovare persone consulenti, cioè persone che vogliono proprio lavorare con voi. Vi spiego il perché. Gli avanzamenti, cioè i gradi, quindi elite, premier, eccetera, che abbiamo visto nel piano compensi, prevedono che si collabori e si portino al successo rispettivamente due e tre persone che decidono di collaborare con noi. Quindi la prima cosa importante da fare è cominciare un po' a sentire degli amici, delle amiche che vogliono collaborare con noi condividendo oli essenziali per il benessere. Se queste persone non sono disponibili ci sono tutta una serie di persone che magari conosciamo o che sono amici di amici, eccetera, eccetera, che potrebbero essere persone interessate a fare questo. Io sto collaborando moltissimo con infermieri, naturopati, insegnanti yoga, operatori olistici, persone cioè che magari hanno partita IVA, magari sono molto propensi anche a usare gli oli per loro stessi e a consigliarli agli altri e quindi che poi possano a loro volta espandere la loro struttura autonomamente. Quella di cui vi parlerò adesso è la cosiddetta prima linea, cioè le persone iscritte direttamente sotto di voi, cioè nel primo strato, diciamo, della vostra struttura. Il nostro obiettivo non è iscrivere tutte le persone del mondo sotto di noi ma avere una struttura ben ramificata, costruire un albero delle fondamenta ben solide e radicate. Questo per i vari bonus che abbiamo visto nella guida Build e di cui abbiamo parlato tanto e soprattutto perché, lo ripeto, il nostro successo dipende dal successo dei nostri consulenti. L'ideale è cominciare il primo mese di consulenza iscrivendo tre persone che pensiamo che possano essere interessate all'aspetto di business. È molto difficile iscriverne tre in un mese solo, soprattutto di persone che possano essere interessate al business. Si stima, stimano che siano soltanto il 10% delle persone che conosciamo, quelle che possano essere adatte a questo, ma non è un problema. Per arrivare a Elite, in realtà possiamo anche solo cominciare con una sola. Comunque, mettiamo la situazione ideale. Abbiamo queste tre persone che vogliono fare i consulenti. Intanto vorrei dirvi le caratteristiche ideali di queste persone che sono state proprio caratteristiche definite dagli studi che sono stati fatti sulle persone di successo che si sono appunto realizzate in do-terra. Innanzitutto devono avere le cosiddette due C. Sono due parole inglesi che cominciano con C che sono capable e committed. Allora, capable vuol dire capace, quindi una persona che è capace di usare gli oli, che è capace di spiegare, di condividere gli oli, quindi è qualcosa che ovviamente si affina con la pratica. Ci sono persone che magari partono subito a farlo perché magari hanno proprio una passione o sono molto portate oppure le conoscono di già, ma non è un problema. Se gli interessa fare i consulenti è sempre qualcosa che piano piano si impara, basta avere un po' di entusiasmo. Committed vuol dire impegnato a farlo, quindi una persona concentrata che si vuole impegnare, d'accordo, che ha preso questo impegno e lo fa con costanza. Quindi questo è molto importante. Le due C in italiano potrebbero essere capaci e costanti, in realtà, o caparbi se vogliamo, ma l'importante è appunto una determinazione. Si può essere capaci quanto si vuole, ma se non si è impegnati e non si stabiliscono degli obiettivi oppure se non si ha una visione del futuro, di dove si vuole essere con Duterra, è piuttosto inutile. Si può anche avere tutto l'impegno possibile, ma se poi non si è in grado di mettere due parole in fila per quanto riguarda gli oli oppure rispondere alle domande più semplici e banali, ovviamente le persone non saranno molto invogliate a fidarsi o comunque ad avere un interesse. Quindi è bene coltivare queste cose in parallelo. La cosa interessante è che l'essere capaci si sviluppa ovviamente sperimentando su seglioli, studiandoci sopra, leggendo dei libri a riguardo sugli oli, guardando dei video, formandosi, partecipando ai corsi. Nella mia struttura se ne fanno tantissimi, sia di classi tenute da me che altri consulenti, ma comunque il web ne è pieno. E anche l'essere committed, quindi caparvi e costanti, può essere sviluppato nel tempo motivandosi e ispirandoci ogni giorno. E penso che sia una cosa bellissima, perché la motivazione e la determinazione non serviranno soltanto per do terra, ma per tutte le cose che vogliamo realizzare nella nostra vita, dal diventare super atletici, o perdere peso, oppure essere in salute, tutto quello che vogliamo. E in più queste persone, oltre a queste due C, hanno sette caratteristiche generiche. Sinceramente basta che ce ne siano cinque su sette, non è così importante averle tutte, tutte. Comunque già dalla lista vi potrete rendere conto subito quali persone che conoscete possono subito essere incluse in queste persone che possiamo inserire tranquillamente nella nostra prima linea come consulenti. Le sette caratteristiche, non so neanche se me le ricordo tutte tutte, però le più importanti sono dunque di solito essere donna, perché le donne sono più interessate a questo, si stima che l'80% degli alti ranghi di do terra sia donna, e questo è, lasciatemelo dire, stupendo, abbia un'età compresa tra 35 e 45 anni, cosa che in realtà non è applicata sempre, perché per esempio io ho cominciato quando avevo 26 anni e conosco un sacco di persone sia in Italia che all'estero che sono molto più giovani, quindi quello non è un problema, ci possono essere persone anche a 50 anni che cominciano, quindi in realtà è solo un'età media. avere quella che viene definita una attitudine allo stile di vita naturale, anche questo è qualcosa che ci si può appassionare sempre di più nel tempo, quindi non è detto che si debba cominciare così, siamo alla tre, vediamo se arrivo a sette, la quarta è avere un po' una mentalità imprenditoriale, cioè avere un'intraprendenza, una creatività nell'avere delle idee, anche questo è qualcosa che si sviluppa benissimo, basta essere un po' ispirati, motivati, avere magari degli esempi, o non lo so, leggere dei libri, guardare dei video di persone di successo, come ragionano. Un consiglio grandissimo che mi sento di fare è quello di non lamentarsi mai e di vedere ogni opportunità, anche la crisi più nera, come lo stimolo per farci la domanda cosa posso fare io per essere vittoriosa in questa situazione, cosa posso fare per imparare qualcosa, cosa posso fare per migliorarmi da tutto questo. Non vi nascondo che il mese di aprile, che per molte persone è stato devastantemente critico da un punto di vista finanziario, con la quarantena e tutto, io non ho mai lavorato meglio così in doterra, perché appena c'è stato questo blocco ho pensato fantastico, è perfetto, no? Magari tutti avrebbero detto no, non è possibile, adesso come faccio a parlare degli oli? Invece io ho cercato di vedere il positivo, quindi ho incrementato i miei corsi online, le mie conferenze online, eccetera, ho cercato di vedere la cosa positiva in questo e l'ho sfruttata, fra virgolette, a mio vantaggio. E questo è un concetto importantissimo per chi vuole avere una mentalità un po' imprenditoriale di successo. Una quinta caratteristica è essere influenti, non importa avere tantissimi amici, io non sono mai stata una persona eccessivamente piena di amici, sono sempre stata una gran secchione studiosa, chiusa in biblioteca e sui libri, però basta insomma magari avere una pagina Facebook, un canale YouTube o comunque qualcosa che ci consenta di poter accedere alle persone oppure perché no, magari siete persone super piene di amici, super piene di persone che vi seguono, eccetera, eccetera. O appunto professionisti, quindi insegnanti yoga o persone che quando parlano vengono molto seguite e ascoltate. Una sesta caratteristica è quella di aver bisogno o comunque aver voglia di avere più soldi, di avere una motivazione appunto anche economica. non importa voler essere per forza subito in tre mesi diamanti che vanno a guadagnare 13-14 mila euro al mese, ma comunque avere voglia di arrotondare, di avere qualche entrata in più in modo virtuoso e facendo qualcosa di bello per tutti. Non mi ricordo la settima, comunque insomma anche soltanto queste caratteristiche sono molto buone. Ah sì, avere un partner di supporto, scusate, mi è venuto in mente adesso. Le persone che hanno una relazione è stato visto che se hanno un partner che le supporta, che le stimola, che le sprona oppure che comunque approva diciamo i loro sforzi e le sostiene è qualcosa che fa avanzare molto più velocemente e mantiene anche ispirati e motivati. Quindi questo secondo me è molto interessante e bello perché chiaramente il nostro successo è bello che venga ammirato dalle persone a cui teniamo di più. D'accordo, mi fermo qui per questa prima parte, quindi l'obiettivo per il primo mese delle persone che vogliono fare i consulenti a fare una lista di persone che hanno queste caratteristiche, quindi che possono avere o hanno di già le due C e le sette caratteristiche. Quindi questi sette tratti del carattere, ma in realtà appunto abbiamo visto ne bastano di meno, comunque vedere quanto si può lavorare su questo. queste persone sono adatte a essere le vostre builder, cioè le persone che voi metterete in prima linea. Se già subito nel primo mese ne iscrivete tre, fantastico, va benissimo anche uno, ottimo sarebbe anche due, se lo fate nei mesi successivi non succede niente, comunque cominciate come prima cosa più che a cercare dei possibili clienti, persone che lo vogliono fare anche come consulenti. Se le persone della vostra lista che rispecchiano queste caratteristiche si vogliono iscrivere magari soltanto come clienti, può andare anche bene così, è sempre un investimento che fate sul futuro. Vedendo voi poi che avanzerete, sarete sempre più entusiasti e crescerete, anche loro ovviamente vorranno farlo. Sono sicura che il successo genere è successo, come è successo tante volte. Ci vediamo al prossimo video.